un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini iniziamo dalla 1 dove adesso c'è un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna in Fipilli in direzione Livorno rallentamenti per lavori tra Empoli, Ovest e San Miniato e tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Eraest sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze Statale 64 Correttana provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un movimento franoso tra le località di Pavana e Ponte della Venturina in prossimità del confine con l'Emilia Romagna Vi ricordiamo che oggi è il decimo anniversario di Muoversi in Toscana Info un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Buon viaggio!